Buongiorno Un attimo signora che stiamo a fare più idea Buongiorno signora Buongiorno Salve Cortesemente il conto della camera 603 Sì 603 subito signora L'avevo giusto appunto preparato Dove sta Eccolo qua Ecco qui a lei Rimasta contenta signora? Contentissima, gentilissimi Grazie grazie Senta però C'è un errore E guardi Qui c'è supplemento tv 100 euro Eh sì Quello è giusto Supplemento tv 100 euro Ma io non avevo la tv in camera Sì però siccome noi stiamo raccogliendo i soldi Per coprire la televisione nuova Così magari la persona che viene Lo trova già in camera in televisione Che simpatico E dovrei pagarlo io Eh sì Cioè La sua buon cuore Ma Diciamo che E' così E' così E' così